Forse si inizia a intravedere una luce in fondo al tunnel, ora non esageriamo ma andiamo con l'ordine, vi spiego il perché. Partiamo con l'analisi di Bologna Sampdoria, saluto a tutti gli amici del Corner Sampdoriano, prima di iniziare vi ricordiamo di seguirci su Instagram, ci trovate come Corner Sampdoriano, iscrivetevi al canale, lasciate un pollicione in su e vi ricordiamo che ogni mercoledì sera all'ora 21 siamo in live su Twitch, quindi se vi fa piacere potete seguirci. Partiamo con l'analisi di un Bologna Sampdoria che è diventato storico perché la Samp non faceva punti col Bologna da un bel po', specialmente a Dallara, nelle ultime sette se non ricordo male l'ha vinte tutta il Bologna, se andiamo a vedere in casa la Samp non vincita dalla stagione 2003-2004, quindi sicuramente è un punto d'oro per la situazione della Sampdoria e soprattutto hai lasciato nella melma, lasciatemi il termine, il Bologna. Perché comunque ieri abbiamo visto un Bologna nel primo tempo in forma, nel secondo tempo ha dimostrato una involuzione, soprattutto fisica penso, incredibile. E forse è questo che ha fatto la differenza nei 90 minuti, perché nel primo tempo la Samp ha provato a scendere in campo con il 4-2-3-1, quello che potrebbe essere il gioco di Stankovic, che secondo me è esordito veramente bene, ma di questo ne parliamo tra poco, ed è stata una Samp che ha fatto molta fatica a creare e a muoversi. Le solite lacune difensive, purtroppo Stankovic non può fare miracoli, si è vista tutta la difficoltà della Sampdoria, molte lacune da parte di Murillo, che si è mosso male, ha cercato di anticipare varie volte Arnautovic, che è un attaccante fortissimo, che ha 36 anni e comunque c'è deliria e c'è a fare ancora la differenza, è veramente uno dei migliori attaccanti, punte vere di questa Serie A, e forse anche in Europa, mi sbilancio, e ha mandato al bar diverse volte Murillo, e Murillo lasciava questo buco notevole in difesa, ed è comunque una Samp che fa ancora fatica ad accorciare, a scivolare, come si dice in gioco, da una parte all'altra quando c'è un cambio di gioco da parte di una squadra. Il Bologna ieri non l'ha fatto, e secondo me il Bologna ieri doveva centrare il gioco più sulla rotazione di palla, sulla circolazione di palla, sui cambi gioco, cosa che non ha fatto e che ha reso forse la vita un po' più facile la Sampdoria. Dall'altra parte, una Samp che appunto ha avuto molta difficoltà nel difendere, abbiamo iniziato a intravedere delle trame di gioco nel reparto offensivo, è stata una Samp che ieri si è resa, penso, più pericolosa ieri che nelle ultime tre partite con Gian Paolo, tralasciando la Spezia, che ovviamente è una partita a parte. Detto questo, se nel primo tempo abbiamo visto una Samp in crisi, con il cambio di modulo hai visto una Samp totalmente diversa. Andiamo con ordine però, al 32esimo trova un grandissimo gol Dominguez e l'azione nasce su un pallone con una sfonda magnifica di Arnautovic. Berezinski era andato alto a pressare, si è perso l'uomo, ma il vero errore, come detto prima, è di Murillo, perché non puoi uscire in una maniera così con un attaccante dello spessore di Arnautovic. Poi, sicuramente ci sono anche delle responsabilità da parte di Augello, o comunque di chi c'era in quella zona, adesso non ricordo bene, ma comunque non arriviamo mai sulle seconde palle, e questo fa la differenza in Serie A, perché ieri subito un gol così e anche in altre occasioni ha fatto la differenza a questo. Poi è una Samp che non ha praticamente avuto occasione nel primo tempo, e da segnalare ovviamente la traversa di Dominguez, che ieri era veramente ispirata, ha fatto delle robe incredibili e ha preso questa traversa, Auder non l'ha neanche vista partire probabilmente, quindi assolutamente fortunati in questo caso. Però, se nelle altre volte non ho parlato di arbitri, lasciatemi dire una cosa al volo, poi torniamo a parlare della partita, perché se quello di Ursuline non è rosso, ha dato un giallo incredibile a Djuricic. Di questo ne parleremo poi anche in live, perché è quello il nostro spazio bar, tra virgolette, qui dovremo analizzare, però sono delle piccole cose che fanno la differenza. Un cartellino giallo, un giocatore come Djuricic che lotta, va a influenzare il modo in cui andrà a contrastare nelle prossime occasioni, perciò io vorrei sapere il Vara a cosa serve, perché quello di Ursuline non c'era volontà di prendere il pallone, era in netto ritardo, è andato sull'altezza della caviglia e probabilmente era partito anche con intenzioni, secondo me, ben peggiori. Se non era rosso quello, non lo so, non lo so, ditemelo voi. Ecco, dicevamo, la partita è cambiata al minuto 69, Jonas Samp comunque aveva fatto vedere qualcosina con l'ingresso in campo di Leris, bravo, 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 Leris ha messo grinta e è quello che ci serviva. Molto bravo, mi dice Leris, non avrei mai pensato di dirlo, ma è uno dei migliori in campo di ieri. Leris è entrato, ha lottato, si è aperto uno sforzo incredibile e quindi davvero complimentiamo di Leris. Ieri è stata una partita molto spezzettata, comunque due squadre che da valore tecnico non possono chiedere tanto, ma in campo hanno lottato, tantissimi scontri. Lico Giannis che è uscito prima nel secondo tempo, colpi di testa, Sabiri, appunto Leris, comunque è un gioco abbastanza spezzettato, per non parlare delle proteste di Gary Medell che è un giocatore che deve sparire dalla Serie A, almeno dagli ultimi quattro anni. Detto questo, la partita è cambiata al minuto 69, già era cambiata un po', come abbiamo detto con l'ingresso di Leris, ma al minuto 69 entra il capitano, entra colui che a 39 anni riesce ancora a influenzare una partita di calcio con la sua voglia, la sua determinazione. Entra, la Samp passa a un 4-3-1-2 e abbiamo visto, posso dire, la Samp che vogliamo. Abbiamo visto una Samp che lotta, che riesce a rendersi pericolosa e che riesce a creare. Al 72esimo, dopo già due squilli, la Samp riesce a trovare il gol con Djuricic, con un tiro sporcato, però era un tiro quello di Leris. Bravissimo Djuricic ad arrivarci, ma l'azione è nata da una sponda di Fabio Cogliarella che ha mandato poi Berezinski, che ha messo in mezzo questo cross. Quindi molto bene, 1-1. Poi, nell'ultimo quarto d'ora abbiamo visto una partita con più occasioni Samp. Bologna, onestamente adesso non mi ricordo niente. Diciamo che Bologna ha avuto un'involuzione pazzesca dal primo al secondo tempo. Secondo me le responsabilità sono dello staff, perché una squadra non può cadere così fisicamente da un tempo all'altro. E bisogna lavorare per il Bologna, con una squadra che comunque deve assolutamente rimettersi in gioco, perché è più o meno nella stessa situazione. Ha, penso, quattro punti in più, ma comunque siamo lì. Quindi sarà sicuramente bello vedere come reagirà il Bologna, come reagirà la Samp, perché adesso ha una partita di una difficoltà estrema con la Roma. Nel finale poi ha avuto quell'occasione con Verre, che è entrato, secondo me, anche lui molto bene in partita, ma Stankovic ha fatto capire che se non corri, non giochi. Infatti ha tolto Caputo, ha tolto Sabiri, che è un giocatore che ieri poteva fare sicuramente meglio. Detto questo, se dobbiamo scegliere, come al solito, tra i migliori e i peggiori, peggiori Murillo, non tanto per la voglia di correre, ma per i movimenti, per la non-intelligenza calcistica che non ha dimostrato di avere ieri. Tre migliori, ovviamente, Quagliarella, Leris, che mi è piaciuto tantissimo, e Diuricice, ragazzi, perché oltre al gol è l'unico che riesce a rendersi pericoloso. Rinconne ormai non lo considero più, perché dovrei metterlo ogni partita tra i migliori, non lo consideriamo più Rinconne, perché è veramente un caso a parte, è veramente uno che lotta, non lascia perdere nessuno, quindi spettacolare in generale. Bologna a questo, sì, è a sette punti, quindi quattro in più di noi, comunque siamo lì, adesso lunedì prossimo ci aspetta una partita importantissima con la Roma, quindi tutti allo stadio, niente scuse, ieri 1.500, 1.200, non si è capito bene, ma comunque un tifo spettacolare a Bologna e io da casa sentivo solamente noi tra bestemmie varie durante il corso della partita, quindi sicuramente mi aspetto un gran pubblico anche con Sampdoria-Roma, che sarà sicuramente una partita incredibile. Detto questo, vi ricordiamo di seguirci su Instagram, ci trovate come Corner, Tattino Basso, Sampdoria, ogni mercoledì sera live alle ore 21 e seguiteci anche qui su YouTube, perché ci sono dei contenuti, alcuni sono già usciti, l'avete visto, li state apprezzando molto, quindi siamo molto contenti, ma ne arriveranno ancora, quindi continuate a seguirci, anche ieri sera eravamo a Bologna con il nostro grande Piro, grazie a Cripto, e fidatevi, continuate a seguirci, perché i contenuti arriveranno. Da Mattia è tutto, da Corner è tutto, sempre a Forza Sampdoria.